Buongiorno, mi chiamo Luca Rinaldi e vorrei proporvi oggi la lettura di un estratto del discorso di Gaetano Salvemini tenuto a Parigi nel 1935 durante il congresso internazionale degli scrittori per la difesa della cultura. Un incontro che aveva l'obiettivo di individuare i mezzi idonei per difendere la cultura minacciata allora a pochi anni dallo scoppio della seconda guerra mondiale. Un discorso letto oggi ancora particolarmente significativo soprattutto nel passaggio in cui Salvemini descrive il concetto del monopolio legale della verità e di come sia necessario per l'intellettuale non aderirvi per rendere un buon servizio alla società. Ecco cosa diceva Salvemini. Non mi sentirei il diritto di protestare contro la Gestapo, contro l'ovra fascista, se mi sforzassi di dimenticare che esiste una polizia sovietica. In Germania ci sono i campi di concentramento, in Italia ci sono isole penitenziario e nella Russia sovietica c'è la Siberia. Ci sono proscritti tedeschi e italiani e ci sono proscritti russi. Siamo tutti d'accordo che libertà significa il diritto di essere eretici, non conformisti di fronte alla cultura ufficiale e che la cultura, in quanto creatività, sconvolge la tradizione ufficiale. Il marxismo, che nelle società borghesi è creatività anti-ufficiale, è divenuto tradizione ufficiale nella società sovietica. La libertà di creazione nelle società borghesi di tipo non fascista è compressa. Nelle società borghesi di tipo fascista è totalmente repressa. Altrettanto repressa è nella Russia sovietica. La storia della rivoluzione russa di Trotsky in Russia non si può leggere. È in Russia che Viktor Sergei è tenuto prigioniero. Il fascismo è nemico non solo in quanto capitalistico, ma in quanto totalitario. Dopo secoli di zarismo si può comprendere la necessità dello stato totalitario russio di oggi, purché se ne auspichi l'evoluzione verso forme più libere. Ma bisogna dirlo e non glorificarlo come l'ideale della libertà umana. L'intellettuale deve battersi contro qualunque ingiustizia sociale a fianco delle classi sfruttate, che lottano per la conquista dell'eguaglianza economica, ma non deve riconoscere a nessuna dottrina il monopolio legale della verità. Ed è proprio partendo da quest'ultima frase che si capisce l'attualità e la validità del discorso del pensiero di Salvemini, perché 85 anni e tre generazioni dopo c'è ancora una fetta consistente di quello stesso mondo che dovrebbe opporsi ai totalitarismi, cedere a quello che lo stesso Salvemini definisce il monopolio legale della verità. E lavorare in questo senso, quindi non aderire nuovamente a quel monopolio, significa dare voce a chi voce non ne ha. Come dice ancora Salvemini, battersi contro le ingiustizie sociali a fianco delle classi sfruttate. Ed è proprio questa la sfida per chi come me e come tanti altri colleghi lavora nel campo dell'informazione, ma anche nel campo della cultura. Quindi da una parte la necessità di non aderire a quel monopolio legale della verità e dall'altra puntare al miglioramento della società. È una posizione scomoda questa, certamente, ma che va praticata giorno per giorno, riconoscendo in maniera altrettanto scomoda, che le verità spesso non sono bianche o nere, ma sono grigie. E questo in tempi di dubbi mai coltivati, in tempi di verità assolute, è certamente un'eresia. Ma libertà, citando Salvemini, non significa forse diritto di essere eretici. E oggi l'eresia sembra essere proprio questo, cioè l'ostinazione nell'approfondimento, nel provare a comprendere la complessità del mondo e nel non lasciarsi andare alle verità di comodo, oppure a quelle che riscuotono il maggior successo. Il giornalismo e il lavoro culturale oggi devono essere soprattutto questo, cioè il lavoro affinché quel rumore di fondo fatto di propaganda e falsità, che oggi noi chiamiamo anche fake news o post verità, sia del tutto eliminato dalla ricerca dei fatti e della verità. Grazie. 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 Grazie.